Musica Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale come avrete letto dal titolo oggi andremo a spacchettare la campagna 16 di Avon in realtà come sempre abbastanza consuetudine sul mio canale oggi andremo a vedere dei prodotti che sono per lo più prodotti di anteprima quindi potete immaginarvi che cosa contenga questa scatolina ma iniziamo subito, chiedo scusa se sembra che sia appena scesa dal letto ma è vero, sono appena scesa dal letto, mi aspetta un'altra giornata bella movimentata però nel video dello spacchettamento andava fatto anche perché Giorgioni va in posta da qualche giorno e io non avevo tempo materiale di andarlo a prendere inizio subito, super veloce, con i prodotti cartacei tanto sapete che in settimana usciranno i video anche dei cataloghi soprattutto del catalogo 17 perché avendo saltato la campagna 15 non lo avevo e non ve l'avevo fatto vedere quindi inizieremo dal catalogo 17 ma prima di tutto vi voglio far vedere invece la campagna 18 che è questa campagna qua di cui faremo anche in questo caso il video poi andiamo avanti, è uscito il nuovo catalogo casa molto bello tra l'altro questo è il famoso catalogo di campagna 17 quindi della prossima campagna dalla copertina intuirete che cosa c'è all'interno di questo pacco ci sono come al solito ah no c'è anche un catalogo Amon Man valido in C16 e C17 ci sono i soliti cataloghini Outlet c'è l'Amon per te e arrivavano, a me ne sono arrivati veramente diversi non credo che sia dovuto al fatto del tipo di ordine che io ho fatto però sono arrivate le solite brochure queste che già conoscevamo della distillery, la linea skincare e sono arrivate anche, credo che siano differenti o forse no ah no guardate ragazzi sono praticamente la stessa brochure scusate io l'avevo vista girata e pensavo che avessero creato una brochure proprio per il make up invece la brochure originaria si è andata ad arricchire con le informazioni relative appunto alla linea make up della distillery perché comunque è molto importante per le presentatrici essere preparate sugli ingredienti perché comunque la linea distillery è una linea vegana in particolare con questi prodotti parlano di ingredienti puri quindi per le presentatrici è importante avere insomma qualcosa per le mani che le possa aiutare nella descrizione e nella spiegazione alle clienti del perché dovrebbero acquistare una linea di questo genere che comunque sia tutto sommato è un pochino più costosa delle linee normali in catalogo e per questo motivo insomma almeno nel mio pacco sono arrivate un bel pacchetto di queste brochure iniziamo subito non ho preso null'altro che sia che non sia inerente alla linea make up della distillery tranne due cose che vi mostro subito anzi una cosa e l'altra arrivava in automatico con il pacco della distillery con l'ordine della distillery la pochette è questa in cotone ecologico con rifiniture in rose gold questa è la lampo me l'aspettavo molto più piccina e invece devo dire che è bella grandicella non me l'aspettavo così grande l'altra cosa che ho voluto prendere ed è sempre un'anteprima voi sapete che ne uso una marea di queste cose sono i dischetti riutilizzabili della glow me li terrò lì man mano che quelli che sto utilizzando diventano proprio illavabili intrattabili li sostituirò quando escono prodotti del genere sul catalogo io ando sempre a prenderli perché sono veramente dei prodotti che uso tanto perché sto pian pianino eliminando i dischetti di cotone e devo dire che mi trovo molto bene con la linea glow che sono anni insomma produce prodotti di questo genere quindi sono di ottima fattura c'è qualche campioncino ma io direi di arrivare al pezzo forte abbiamo qui e sono tutti e quando dico tutti intendo tutti gli ombretti della linea distillery ora io mi sacrifico per la causa per il canale e per voi perché sapete che non amo gli ombretti mono anzi ero quasi riuscita a farli fuori tutti nella mia make up collection bene oggi ne riaggiungiamo otto che sono tutte le colorazioni presenti all'interno della collezione ci sono due matte e il resto sono tutti quanti sul catalogino indica scintillante andremo a vedere nel video dedicato se sono più shimmer più duoprom insomma come si comportano questi ombretti ho un hype pazzesco ragazzi sapete che a me le polveri occhi di Avon non fanno impazzire motivo per cui deposito tutte le mie speranze su questi otto ombretti ve ne faccio vedere uno a caso per mostrarvi il packaging arrivano tutti nella scatolina che a loro volta è avvolta da una plastichina trasparente ecco tipo questa che io ho tolto anticipatamente perché altrimenti per i video sarebbe stato disastroso perché è messa molto bene molto rigida sono due grammi di prodotto il prodotto è fabbricato in Italia ragazze abbiamo made in Italy non mi dite made in Italy wow fantastico solitamente in Italia siamo bravi a fare il make up sapete che la maggior parte delle case cosmetiche importanti produce in Italia abbiamo anche in questo caso il logo della frame riportato sotto nel packaging secondario la validità del prodotto è di 12 mesi dal momento dell'apertura una volta che voi andate ad aprire la scatolina questo anche per tranquillizzare le presentatrici che hanno ordinato questi prodotti hanno un rivestimento rigido all'interno di cartone che avvolge tutto l'ombretto questo per insomma anche a livello di spedizione dovrebbe farci stare abbastanza tranquille il packaging primario è così io mi immaginavo un po' più grandicelli perché non avevo dato tanto alla grammatura molto molto carino bianco semplice essenziale come da linea distilleri questo è il batch 330 una volta che lo aprite è così non c'è specchietto c'è questa pezzettino di carta e l'ombretto è così abbiamo beccato questo che è uno dei matt lo vedete già sbocciato perché ovviamente li ho sbocciati ma non vi anticipo niente perché settimana prossima nelle prossime due settimane comunque ci saranno una carrellata di video su tutti questi prodotti li vedremo applicati insieme ne vedremo le caratteristiche ci truccheremo alla fine di ogni singolo video per ogni prodotto con tutto il make up distilleri e soprattutto qui sicuramente ci sarà qualcuno che polemizzerà andremo a studiarci un po' la concorrenza su prodotti similari e vedremo se il rapporto qualità prezzo Avon è conveniente rispetto alla concorrenza o meno andiamo avanti e un altro prodotto molto atteso sempre di questa linea mi sposto con il mio cataloghino fantastico eccolo qua è il fondotinta minerale esce in tantissime colorazioni per essere un fondo minerale e quindi ne abbiamo 3, 6, 9 ben 10 dalla più chiara alla più scura con diversi sottotoni il packaging esterno è sempre lo stesso che abbiamo visto per gli ombretti andiamoci a leggere 24 mesi di pavola dal momento dell'apertura il totale della grammatura del prodotto lo troveremo Sawa tra l'altro vedete qua questo volevo far notare il questa decidura che trovate qua vuol dire che il cartone è in parte riciclato quindi proprio in filosofia distilleri riuscirò a trovarla ragazzi la grammatura c'è da qualche parte secondo voi 10 grammi scritto davanti sarà semplicemente scritto davanti sono 10 grammi di prodotto abbiamo detto 24 mesi di pavola dal momento dell'apertura del prodotto volevo vedervi anche allora il primo ingrediente dell'inci è il talco quindi questo dovrebbe essere anche buono da utilizzare nel contorno degli occhi dovrebbe essere prodotto in Polonia ce la posso fare ad aprire lo stesso packaging mi ricordo che è rivestito da questo cartone molto rigido all'interno vedete potete farlo uscire così questo ci tranquillizza non poco per la spedizione il packaging esterno è esattamente identico a quello che abbiamo visto per gli ombretti quindi stiamo parlando di un cartonato bello ben fatto magnetico scusate mi è chieduta il fogliettino di carta di protezione io ho preso l'abbaccio 110 tra l'altro scusate ho commesso un errore c'è scritto dietro anche questo è made in italy non c'è lo specchietto e il prodotto si presenta in questo modo io vi posso dire che a tatto è sofficissimo molto micronizzata la polvere vedremo applicato come si comporta bello anche questo packaging devo dire l'unica cosa che mi fa preoccupare relativamente questi problemi è che essendo bianco temo che si impecetterà abbastanza presto speriamo di no e poi veniamo agli altri due prodotti gli ultimi due che compongono la lista vediamo se riesco a trovare subito il mascara così ve lo mostro e boh io devo dire che per il quanto riguarda il mascara sono rimasta stupita quando l'ho aperto perché vi dico la verità visto dal catalogo non non mi non riuscivo bene a capire come era fatto lo scopolino ma veniamo subito a noi packaging esterno identico lashed up mascara avon sono 10 ml di prodotto quindi siamo assolutamente nella media fabbricato in Italia quindi anche questo made in Italy vediamo che è tre mesi di pavo dal momento dell'apertura come tutti i mascara packaging praticamente similare qui non c'è cartoncino di rinforzo ma non dovrebbe essere necessario si presenta esattamente come il packaging classico della distillery quindi una sorta di bronzo come tappino scritte in bronzo ricorda un pochino l'ampollina della vitamina C lo andiamo ad aprire insieme se devo durargli una cosa scomoda è che essendo dolteggiante sotto non si riesce a tenere in verticale questo è lo scopolino come vedete è molto fitto ma soprattutto ha molto prodotto preleva molto prodotto staremo a vedere sembra nero come la morte vediamo se riesce effettivamente ad avere un bel effetto sugli occhi e soprattutto che tipo di durata avrà questo prodotto poi prima di passare alle lip rush vi mostro un altro prodotto preso in anteprima per cui ho anche in questo caso un bel hype perché sto parlando della on true power stay concealer quindi esce della linea power stay di cui già conosciamo il fondotinta e le tinte labbra anche il concealer io l'ho preso nella colorazione golden fair anche questo arriva a volte in una pellicola che ho già tolto per portarci avanti con il lavoro classico scovolino a lip gloss e questo è il colore lo andremo poi ad applicare vedremo come si comporta devo dire sembra molto 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 sottile e si asciuga abbastanza rapidamente questo made in england ma non mi sembra full coverage quindi vediamo poi quando lo applicheremo effettivamente come si comporta questo prodotto magari lo proviamo proprio in tandem con il fondotinta della power stay fatemi sapere se vi può interessare con un commentino qua sotto vediamo a noi altro prodotto super super atteso di questo lancio sono le lip rush le lip rush che sostanzialmente sono delle loro le definiscono tinte labbra e qui io credo che si scatenerà nuovamente la mia lotta personale contro avon perché dubito fortemente che queste siano delle tinte labbra comunque usciranno in nove colorazioni se non erro io le ho prese tutte e nove quindi settimana prossima uscirà il video di applicazione delle lip rush sono dei prodotti che dovrebbero presentarsi sotto forma di lucido dovrebbero essere lucide e qui avon indica un colore vibrante morbido puro intenso e preciso con una sola applicazione la descrizione mi sto sempre leggendo la descrizione di avon dice che cosa la rende fantastica la nostra più pura concentrazione di pigmenti minerali e colorati per un tono vibrante la formula unica presenta una consistenza ricca grazie agli emollienti vegani e dalla vitamina E l'applicazione della punta morbida consente una definizione sublime ok quindi questo prodotto dovrebbe avere all'interno degli oli che sono anche curativi emollienti per le labbra quindi via il fastidio delle vere e proprie linte labbra lip rush l'ho preso uno a caso il 545 packaging esterno esattamente uguale a quello del mascara internamente il pack gli assomiglia molto guardate che colore sono andato a prendere stiamo parlando di questi prodotti qua come potete vedere ma non credo che vedrete bene la scritta è riportata su questa che questa volta diventa trasparente il tappo è sempre il medesimo il 545 è rosso per antonomasia lo scovolino è così e il prodotto è appunto lucidino eccolo qua ragazzi io le ho prese vi ripeto il profumo praticamente come il classico della linea distilleri non c'è sono dei prodotti che già visti così non si asciugano nel senso rimangono così da quando li mettete a quando se ne vanno quindi non è che il prodotto si asciugherà non è solo la mia mano né solo le mie labbra da quel poco che ho potuto vedere io ne ho provato una sola nude al volo così perché non resistevo sono dei prodotti che appunto vi dicevo non si vanno ad asciugare non si eccano le labbra devono avere una durata anche inevitata nel tempo ma per maggiori dettagli mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché nel prossimo video usciranno tutti i video di applicazione di questi prodotti faremo con gli ombetti diversi make up look proveremo tutte quante le tinte labbra della distilleri vedremo quanto durano quanto non durano ma soprattutto le andremo a confrontare con dei competitor diretti di editte che fanno prodotti similari questo come potete vedere nel frattempo continua a essere così lucidino ragazzi è tutto questo è tutto quello che era contenuto nel mio pacco spero che questo video spacchettamento vi sia piaciuto ci vediamo sul mio canale a breve con altri video dedicati ad avoro vi mando un bacio grande grazie per aver cliccato su questo video ciao